No, no, rimani qui con noi, rimani qui con noi, perché questo è un momento anche molto importante e davvero con piacere e con onore che chiamo sul palco il Vice Ministro dell'Impresa e del Made in Italy, Valentino Valentini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie davvero. Io parto così, vabbè, allora, innanzitutto questo è un colpo d'occhio molto impressionante e ti fa capire che nei ministeri noi parliamo di uno degli aspetti fondamentali che è il trasferimento tecnologico, cioè in sostanza se noi vogliamo che il nostro paese progredisca, se noi vogliamo che le nostre aziende producano, se vogliamo avere un impatto, essere al passo coi tempi, dobbiamo fare in modo che ciò che si studia all'università, quanto viene ricercato, le innovazioni, poi trovino una strada e passino verso la società. Beh, per avere, per far sì che questo processo diventi un processo che vada da solo, c'è bisogno di ciò che vediamo quest'oggi. Chiamare quest'oggi, questo incontro di oggi, una fiera, è riduttivo se vogliamo, perché siamo in un punto nel quale, grazie all'intuizione di un imprenditore, di un Made in Italy, facciamo in modo che cresca innanzitutto la cultura dell'innovazione, il fatto che noi ci rendiamo conto e sappiamo che viviamo già in un mondo ibrido, noi tutti siamo ibridi, nel senso che esisto io qua, ma esiste di noi una presenza nel mondo dei data, una presenza digitale per così dire, anche tutto quello che vediamo fisicamente attorno a noi e che ci attira, ha dietro di sé una serie di processi e una costruzione di dati che sono l'elemento fondamentale, portante, quindi, e affinché il nostro paese capisca questo, c'è bisogno di manifestazioni come questa che ci attirino, ci attirino perché sono frizzanti, ci attirino perché ci fanno capire che il digitale non è né quelle cose che vengono fatte stranamente, né sono un qualcosa in mano soltanto alle grandi aziende internazionali che ormai ci manipolano, ma ci fanno capire che un qualcosa nel quale un imprenditore parte e decide, ha una visione, la può realizzare e soprattutto nel mondo in cui ci troviamo, nel quale adesso abbiamo la terza ondata, qualcuno l'ha chiamata, di innovazione, l'arrivo dell'intelligenza artificiale, parentesi, tutti parlano dell'intelligenza artificiale perché adesso è di moda, ma in realtà parliamo di grandi modelli linguistici, perché l'intelligenza artificiale già con noi esiste, quella discriminativa esiste, è un processo che è in atto, ma siamo giunti a un punto nel quale qualcuno ha detto i computer hanno hackerato il sistema operativo degli umani, vale a dire attraverso i grandi modelli linguistici tu puoi interagire, i computer interagiscono con noi con il nostro sistema operativo, con il linguaggio, ma questo oltre porre forse delle sfide, delle preoccupazioni che sicuramente sono prese in considerazione dai legislatori a livello internazionale, europeo, italiano eccetera, presentano però anche delle opportunità enormi, delle opportunità che a nostro avviso e a mio avviso debbono servire a fare cosa? Abbassare innanzitutto il livello, la barriera che è rappresentata dall'innovazione tecnologica, il fatto che si riuscirà sempre di più a interagire con gli oggetti di uso quotidiano o gli oggetti che usano i nostri operatori per produrre usando il linguaggio umano fa sì che le tecnologie sono più facile, tutti noi stiamo utilizzando tecnologie molto complesse come un black box, scatola nera, della quale noi non sappiamo come funziona, tutti noi usiamo un telefonino, la complessità tecnologica del telefonino che abbiamo in tasca non la conosciamo, ma nessuno di noi potrebbe più farne a meno, ebbene attraverso l'uso delle tecnologie dobbiamo fare in modo che si riesca a far sì che questa tecnologia black box abbassi il livello di accesso, ci consenta di interagire con le macchine senza saper usare il coding, senza interagire con il linguaggio delle macchine operativo, perché abbiamo insegnato le macchine al nostro linguaggio, e far sì quindi che tutta la realtà attorno a noi che vediamo rappresentata qua, che va dalla musica, le auto, la costruzione, l'industria, eccetera, possa beneficiare di questa ulteriore ondata. Vedo poi molti giovani qua, e questo mi rende molto felice, mi rende molto felice perché i giovani sono coloro che porteranno avanti queste innovazioni, sono coloro che venendo a manifestazioni di questo tipo debbono trarre l'entusiasmo, la voglia, l'emulazione, vedere dove effettivamente sia possibile e come sia possibile farlo. Quindi un plauso per questa manifestazione, un plauso per il fatto che sia Bologna, non è un caso, abbiamo sentito quali sono tutte le valenze di questa città, che dobbiamo sicuramente utilizzare, sfruttare, pensare comunque in termini bolognesi, locali, io stesso non vengo da molto lontano, prendere le nostre valenze, i nostri attu, ma pensare che siamo collocati però in un contesto che non è più né cittadino, né regionale, né nazionale, ma è globale. La storia di questa manifestazione vi dice che siamo già inseriti in una competizione, adesso non ci sono dietro, in una competizione mondiale, che c'è in realtà ormai una realtà che ci vede collocati all'interno di questa realtà e in questa realtà noi dobbiamo essere in grado di competere. Concludo il discorso di prima applicandolo a quello del Ministero del Made in Italy e delle imprese. Credo che l'utilizzazione e comprendere che le tecnologie, l'ondata tecnologica che non può essere arrestata, ma deve essere presa, gestita e utilizzata, ci può servire inoltre per mantenere il nostro sistema produttivo. Il sistema produttivo italiano è fatto di piccole e medie imprese, piccole e medie imprese che rischiano di essere espulse da un sistema che sta passando, grazie alla tecnologia dei dati, da una manifattura di prodotto a una manifattura di processo. Parlavamo di Bologna, Net Zero. Per avere un Net Zero tu devi essere in grado di giustificare e tenere sotto controllo tutta la tua catena di produzione che va dalle materie prime al prodotto finito, al riciclo del prodotto finito e delle materie che lo usano. Affinché questo modello produttivo sarà, è e sarà il modello di adesso e del futuro, tu devi gestire il dato e devi fare in modo che anche la piccola e media impresa sia parte di questo sistema, sia in grado quindi di interagire con colossi più grandi o creare reti che sono i nostri distretti e attraverso la gestione del dato e attraverso il fatto che tutti noi si possa prendere atto, che non è un qualcosa che ci deve respingere ma che ci deve includere, come ha usato lui, riusciremo a mantenere il nostro sistema produttivo caratteristico delle nostre regioni, fatto di che cosa? Di customization. Noi siamo secondo paese manifatturiero in Europa, secondo paese per servizi, ma siamo molto spesso il primo paese dove, nelle catene del valore, dove c'è da fare quelle cose che nessun altro riesce a fare, dove c'è da mettere quel pizzico di creatività che altri non hanno e la tecnologia ci deve consentire di rimanere competitivi in questo settore grazie a questo e manifestazioni come queste ci servono per effettuare il vero trasferimento tecnologico che è un trasferimento soprattutto culturale, dobbiamo eliminare la paura, la paura di utilizzare nuove tecnologie, la paura dei risultati che queste tecnologie del mondo dare e abbassare e ridurre quella che è la digital divide, che è un digital divide di competenze, quindi voi giovani studiare è bello, è divertente, è sexy, è cool, usiamo l'inglese così non ci mettiamo male e lui ce lo sta facendo vedere ed è per questo che è successo la manifestazione, ma anche le generazioni più indietro, sempre più vediamo genitori, i miei genitori ne hanno di anni, che si muovono sui social media eccetera, ebbene dobbiamo fare in modo che culturalmente con manifestazioni di questo tipo si sia in grado di andare avanti tutti insieme, sia per aumentare il livello di cultura, sia per aumentare il livello di competenza e per essere sempre all'avanguardia. Vi ringrazio, scusate se ho dilungato, ma forse è questa platea che è una solituità. Grazie mille, grazie mille Vice Ministro, io la ringrazio davvero tanto, grazie ancora Max. Bene.